Numerosi incidenti stradali dall'esito mortale sono stati registrati nell'ultima settimana sulle strade del Veneto, in particolare sul territorio della provincia di Padova. Giovedì nel tardo pomeriggio il dottor Gilberto Lazzaro è rimasto ucciso in un sinistro avvenuto a due carrare. Il medico, noto pneumologo in servizio all'ospedale di schiavonia, viaggiava su uno scooter quando si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 35 anni. L'impatto tra la Renault Megane e lo scooter Piaggio non gli ha dato scampo. Il 118 ha tentato a lungo la rianimazione sul posto, ma è stato inutile. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della tragedia. L'ULS 6 Eugania esprime cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Gilberto Lazzaro, un professionista molto stimato e conosciuto che lascia un segno indelebile negli ambienti di lavoro che ha frequentato nel corso della sua carriera. Aveva 62 anni, abitava a Montegrotto.